Gentili telespettatori buona giornata. Giorgia Meloni presidente di Fratelli d'Italia dice no alla fiducia a Mario Draghi specificando che non è Mario Draghi il problema ma il problema è un altro. Ma aggiunge siamo pronti a dare una mano dall'esterno le manderò le mie proposte. Naturalmente Draghi avrà le proposte di tutti i partiti che sono dentro cioè tutti gli altri insomma avrà tante di quelle proposte che non credo andrà a leggere quelle di Fratelli d'Italia come anche Conte durante il Conte Bis non ha mai letto le proposte di Fratelli d'Italia e della Lega mai le ha cestinate sempre. La presidente di Fratelli d'Italia dice che potrebbe al massimo optare per l'astensione ma non entriamo in un governo con PD o Movimento 5 Stelle e che ha un orizzonte di legislatura. Per la destra che lei rappresenta la strada preferibile resta il voto. Quindi il partito di Giorgia Meloni è l'unico partito in Italia che dirà no alla fiducia al governo Draghi. Al massimo ci sarà un'astensione ma chi se ne frega dell'astensione o che dica no o ci sia l'astensione quello che importa è che il partito non entra nel governo. Ci siamo astenuti ma chi se ne frega no? Al termine del colloquio a Montecitorio con il presidente incaricato la presidente del partito di destra ha comunicato la sua linea sintetizzabile così. Non entreremo mai in un governo con PD, Renzi o Movimento 5 Stelle ma siamo disposti a dare una mano per il bene dell'Italia. Per Meloni la linea preferibile sarebbe stata quella di ridare la parola agli italiani attraverso il voto. Beh, Mattarella è stato chiaro, al voto non si va con la pandemia, la crisi sociale ed economica, al voto non si va. Quindi se non si va al voto stare all'opposizione significa rimanere per due anni a criticare sui social. Insomma, la mano data da fuori, cos'è la dare una mano da fuori? Se tu sei al governo e sei seduto nel Consiglio dei Ministri puoi portare le tue proposte, puoi combattere per le tue idee, puoi portare avanti le promesse fatte al tuo elettorato. Se sei fuori, la tua mano non viene presa in considerazione, perché se tu mandi delle proposte non ti si fila nessuno, come ha fatto Conte, come fanno tutti i governi. Nessuno ascolta le proposte dell'opposizione, per tante ragioni. Quindi quel diamo la mano da fuori di Giorgia Meloni si riduce a che cosa? Arriva la proposta di legge del governo. Giorgia Meloni la legge, dice secondo me do la fiducia, secondo me non do la fiducia per questa legge. Voto sì, voto no. Questo si riduce dare una mano da fuori per il bene dell'Italia. Cioè arriva una proposta, diamo più soldi per la Cassa Integrazione, Giorgia Meloni dice sì, per il bene dell'Italia voto sì. Però lei non l'ha proposta, non la può proporre, non può essere una sua idea, perché verranno prese in considerazione solo le idee del governo. Immaginatevi già la confusione tra tutti i partiti, Forza Italia, Lega, PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, tutti cercheranno di essere al centro dell'attenzione. Immaginatevi se Draghi va a ascoltare Giorgia Meloni da fuori. Quindi siamo disposti a dare una mano per il bene dell'Italia, si riduce solo a sì o no le leggi che passano. Per Meloni la linea preferibile sarebbe stata quella di ridare la parola agli italiani attraverso il voto, ma come vi dicevo Mattarella ha detto no. E qui non c'è neanche la possibilità, magari Draghi votando no, non riesce ad avere la fiducia in Parlamento. Ha fin troppi voti, perché rimane fuori solo Fratelli d'Italia. Ha un governo di unità nazionale appunto, ha praticamente tutti i voti possibili e immaginabili a disposizione. L'opposizione si riduce a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. Molti elettori di Fratelli d'Italia sono contenti, Meloni mantiene la testa alta, la schiena dritta. Però io parlo adesso a voi elettori di Fratelli d'Italia. Siete sicuri che è meglio rimanere fuori a criticare che stare dentro a combattere per le proprie idee? È come dire sediamoci al tavolo e parliamo? No, finché c'è quello io non mi siedo. Ma immaginatevi 20 persone. Allora signori sediamoci al tavolo e io dico no, finché c'è quello lì io non mi siedo. O io o lui. Dice vabbè stai fuori, rimaniamo in 19 e andiamo a decidere se vuoi stare fuori, stai fuori. Eh no, perché se c'è quello io non entro. Va bene, stai fuori, noi adesso ci prendiamo e decidiamo noi 19. Pensavamo di essere in 20, tu non vuoi entrare perché ci sono gli altri, stai fuori. Secondo me, secondo me, dire io non mi siedo al tavolo perché c'è tizio seduto, io preferisco sedermi a confrontarmi. Io anche nel mondo del lavoro, quando lavoravo nelle aziende, non è che mi stavano simpatici tutti. Ci sono persone che anche si odiano. Però cosa facevo? Davo le dimissioni perché c'era quel mio collega che non lo sopporto. Allora do le dimissioni? Io potrei, potevo dare le dimissioni se vivevo di rendita. Dice io sono un milionario, non mi va più me ne valo, andate a quel paese. Ma non essendo un milionario ho sempre dovuto sedermi ai miei tavoli e combattere per i miei diritti di lavoratore, no? Contrastare quella persona che odio. Alla prima mezza cosa che diceva me lo mangiavo vivo. Ecco, insomma, io sono dell'idea che è meglio sedersi che stare fuori perché c'è quello là. Poi, insomma, ognuno è libero di decidere quello che vuole. Io non giudico se Giorgia Meloni ha preso questa decisione, probabilmente ha capito che per il suo elettorato conquistato con fatica dal 4 al quasi 19 per cento, deve prendere questa posizione perché al contrario l'elettorato non capirebbe, credo. non capirebbe. Io ho letto diversi commenti che ho scritto, professore, guardi, io ho capito perfettamente quello che dice, condivido, ma vedo che i commenti delle altre persone rimangono sempre gli stessi, nel senso che c'è molta gente che comunque rimane dell'idea no con i 5 Stelle, no con Renzi, no con Draghi. Però quello che vi volevo dire io, qual è l'altra soluzione? Andare al voto? Non si può. Stare fuori a criticare? Insomma, per due anni ogni giorno fare post su Facebook dicendo guardate cosa combinano, forse è meglio andare dentro nell'arena e combattere per le proprie idee. Però, insomma, io sono un opinionista, nel mio piccolo questa è la mia è la mia opinione, naturalmente conta come il due di picche, ovviamente. Io non conosco questi politici, non ci ho mai parlato, non ho mai conosciuto Salvini, non ho mai conosciuto Lameloni, non ho mai conosciuto Zingaretti, Di Maio, Draghi, li ho visti come voi, credo la maggior parte di voi, in fotografia, nei video, magari qualcuno di voi è andato a qualche comizio, dicevo io l'ho sentito parlare qui, però io realmente non ho questa conoscenza personale, la mia si limitano ad essere delle opinioni condivisibili, non condivisibili, ma rimangono delle mie opinioni. Voi potete legittimamente avere le vostre, ovviamente. Bene, ho detto a Draghi, dice Meloni, che Fratelli d'Italia dirà no alla fiducia, perché servono le elezioni e un nuovo Parlamento, serve un esecutivo coeso e una visione chiara, una visione chiara in un Parlamento balcanizzato e una maggioranza composta dagli stessi che hanno portato il Paese al disastro. Abbiamo detto al Presidente incaricato che tuttavia le nostre proposte non mancheranno. Cara Giorgia Meloni, se in questo governo ci sono tutti quelli che hanno portato il Paese al disastro, se ci sono tutti quelli, però arrivate tu, Salvini e Berlusconi, assieme a quelli che hanno fatto il disastro, voi potete contrastare questi che cercano di protrarre il disastro a oltranza, perché questi continueranno con le loro idee, i decreti in sicurezza, peace and love. Quindi se ci sono gli stessi che vogliono continuare ad andare avanti, questa è l'occasione per andarli a contrastare nel tavolo di governo. Sennò come si fanno a contrastare questi? Continueranno a fare quel cacchio che gli pare. Hanno distrutto l'Italia. E allora stiamo fuori a criticarli perché non ci sediamo al tavolo con loro. Ci sediamo al tavolo con loro e continuiamo a criticare. E li combattiamo sul terreno. Sennò questi continueranno PD, Leo, Italia Viva, 5 Stelle e continueranno a fare quel cavolo che gli pare. A quel punto ci sarà dentro Berlusconi e Salvini che hanno i loro voti che potranno contrastarli. Però se ci fosse stata anche Fratelli d'Italia, l'Unione fa la forza, un partito in più avrebbe fatto comunque un blocco di fronte a Zingaretti d'Uomo che ride, Rocco Crimi detto Vito dagli amici, Zingaretti che ride, Di Maio off Di Maio. Insomma, per contrastare questi, per contrastare questi tizi, bisogna andare a combattere, politicamente parlando ovviamente. Ecco. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.